Ti piacerebbe, vero, infilare nei tuoi investimenti un bel ETF obbligazionario? Beh, le cose stanno cambiando. Sembra incredibile, ma le cose stanno cambiando. BlackRock ha fatto uscire degli ETF obbligazionari, di cui due sono addirittura quotati su Borsa Italiana, che sono a scadenza. Ora, per chi non avesse seguito il canale, c'è una quantità, penso ormai, innumerevole di video, ve ne linko uno qui a caso, e poi magari linkerò i successivi in sequenza, che dimostrano, e mostrano più che dimostrano, perché non serve neanche dimostrarlo, è una cosa nota, mostrano che un ETF obbligazionario non si comporta per niente come un paniere di obbligazioni. Soprattutto non permette mai di arrivare a scadenza. Il grosso vantaggio di acquistare un'obbligazione è che l'obbligazione ha una scadenza e a quella scadenza tu sei sicuro che il rimborso sarà esattamente 100 e quindi è come aver messo i soldi in una cassaforte a tempo, a meno che l'emittente chiaramente non fallisca. Mentre acquistare un ETF obbligazionario è qualcosa di molto diverso, perché l'ETF obbligazionario non va a scadenza, continua a ricomprare obbligazioni e quindi ha sempre un prezzo che fluttua in maniera inversamente proporzionale all'andamento dei tassi, anzi, in teoria all'andamento dei tassi attesi, quindi sei anche molto in valia del mercato. Per questo io sconsiglio fortemente l'ETF obbligazionario e qui ho fatto il video famoso in cui io scrivo evita gli ETF obbligazionari, lo sconsiglio però a chi lo usa per mettere i soldi in cassaforte, quindi come alternativa alle obbligazioni. È però antipatico doversi comprare le obbligazioni, perché se inizi ad avere grossi quantitativi di soldi non si possono mettere in una sola obbligazione o solo in obbligazioni di osso emittente, devi sbatterti un po', diversificare, comprare obbligazioni diverse, soprattutto di emittenti diverse, perché c'è sempre il rischio che un emittente magari non fallisca, ma dia una limatina ai tassi. Effettivamente, confesso che se diventasse Ministro delle Finanze, prima cosa che faccio, do una limatina ai BTP Italia, retroattiva, e poi anche una limatina a tutte le obbligazioni degli altri, degli altri stati abusivamente, rischiando di essere cacciato fuori dall'Europa. Ecco, dopo questa mia propaganda elettorale, e c'è chi mi ha accusato di proporre investimenti, invece no, mi sto per candidare alle prossime elezioni, dopo questa propaganda elettorale, passiamo al sodo. Ma cosa sono questi ETF obbligazionari che hanno una scadenza, quindi si comportano come le obbligazioni? Beh, sono una cosa molto semplice, sostanzialmente l'ETF compra un po' di obbligazioni e tutte con scadenza simile o in un certo piccolo range di tempo e le porta a scadenza easy-peasy. Il suo prezzo dipende dal prezzo di quelle obbligazioni, qualora voi decidiate di comprarlo e venderlo durante la vita, ma a un certo punto scade, fine, l'ETF finisce. Ok, c'è lo sbatti che dovrete ricomprare un altro. Non escludo che l'emittente faccia una scelta furba che farei io se fossi l'addetto di quell'emittente, l'attento marketing di quell'emittente. Quando l'ETF sta per scadere propongo a tutti guardate se non fate niente noi automaticamente vi rimettiamo i soldi in un altro ETF quindi converto l'ETF in un certo senso in un altro ETF che scade tra di nuovo altri 3-4 anni e quindi magari probabilmente molti accettano. Però diciamo che a scadenza voi avete diritto al rimborso di tutte le obbligazioni a 100 quindi non siete più in balia dei tassi di mercato. Non siete più in balia dei tassi di mercato perché per chi non lo sapesse linko il video qua sopra e questo video ormai ha già 74 video linkati il video qua sopra in cui spiego la relazione tra i tassi e come funziona un'obbligazione e in particolar modo a un certo punto del video ci sarà la relazione tra i tassi e il prezzo che è inversamente proporzionale sugli ETF siete in balia dei tassi di mercato qui no perché la duration si accorcia e quando le duration diventano molto corte non siete più in balia dei tassi di mercato. La duration corta fa sì che è quasi certo il rimborso a 100 e quindi siete a posto. Andiamo a vedere questi fantomatici ETF quotati su Borsa Italiana ecco ne abbiamo due sono emessi dai shares che è di BlackRock uno è ma si può chiamarli non so Genoveffa Guastaldo no bisogna sempre dare dei nomi che vengono poi abbreviati in maniera indegna questo 26 sta a significare che scada in 2026 euro perché c'è anche la versione in dollari non l'ho trovata quotata su Borsa Italiana non so cosa sia UCCIZ vuol dire che la tassazione è regolare e non dovete mettere l'indicazione dei redditi c'è il suo omologo che è come vedete identico soltanto che cambia il 26 dal 28 ora i più scaltri di voi avranno già notato una cosa bruttissima di questo ETF andiamo a vederla faccio un refresh della pagina oggi sto registrando il 17 agosto non so quando andrò in onda questo video perché forse domani ma domani c'è un video bomba che dovrà uscire quindi non so se domani farò uscire il video bomba o questo altrimenti rimanderò di una settimana questo ETF è uscito il 14 agosto che è un momento pessimo per gli italiani ma vi informo che il resto del mondo lavora il resto del mondo agosto so che soprattutto ai milanesi sto dando e dico milanesi perché devo avere a che fare con una situazione di Milano no tutto chiuso impossibile contattarli ok quindi lo dico un po' col dente avvelenato io sono qui che lavoro quindi il 14 agosto normalmente nel mondo si lavora e infatti ecco qui prendiamo il 26 vediamo i contratti scambiati vediamo i contratti per giorno è scusate venerdì 11 agosto è uscito contratti giornalieri 5 il 14 agosto ne ha fatti 16 il 15 la borsa di Milano penso fosse chiusa e non è detto perché la borsa di Milano non sempre segue segue il calendario italiano perché queste sono feste tipicamente perlomeno del sud Europa ad esempio la beffa ricordo una volta la beffana di solito la borsa italiana è aperta comunque il 16 che è ieri ah 16 contratti giornalieri 16 ma chi fa l'istogramma qui no 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 scusate 16 una pippa contratti giornalieri nessuno bene quindi quindi come vedete non è che gli scambi abbondino proprio ci sia grossi interessi d'altronde diciamolo chiaramente cioè questi sono etf che sono mossi soltanto da noi poverazzi cioè da quelli che investono con le proprie mani sono nuovi quindi difficile che il consulente lo consigli potrebbe essere difficile che lo consigli anche per altri motivi che non voglio dire no non sono motivi razionali non preoccupatevi però quindi di solito dobbiamo se non ci mettiamo noi gli soldi questi etf al momento sono bloccati su questi pochi contratti su borsa italiana andiamo a vedere l'altro che è lievemente più liquido forse mica tanto contratti refresh della pagina contratti giornalieri eh ne ha fatto 25 contratti vediamo quanto fa di conto valore allora sono stati scambiati 124.000 euro che non sono pochi uno di 14 poi basta questo qua quanto fa di conto valore 14 sono stati scambiati 485.000 euro e l'11 115 quindi non è non è poco è poco però diciamo almeno qualcuno scambia ok e vedete qui contratti questi sono i contratti di oggi sì questi sono i contratti scambiati oggi alle 9.09 qualcuno si è svegliato alle 9.04 ha evidentemente comprato venduto 100 vedete esattamente 100 la somma e poi il 9.09 ha comprato venduto 100 in blocco ok poi basta mercato fermo adesso sono mezzogiorno quindi è mezzogiorno ok capisco che a Milano il 17 agosto non c'è gente che urla a me a me però insomma ok quindi avete già capito il problemino di questi due nuovi etf è che il grafico vedete è piantato eccolo qui tung tung cioè fanno veramente pochi scambi ciò nonostante però abbiamo sono ci sono prezzi cioè c'è il market maker ogni borsa ha il suo market maker quindi un signore che deve mettere un'offerta in acquista e una in vendita non è un signore in realtà è un algoritmo ok e vediamo il market maker ecco qui vi fa una proposta a 100 per acquistare a 4,9935 e in vendita a 4,9975 però in vendita ci sono 21.059 quote ricordo che ogni quote sono 5 euro quindi questa è una miseria questo è un 500 euro in acquisto ecco qui questi due ordini a naso potrebbero essere messi o da un market maker o da un trader un trader che cerca di acquistare a 4,984 e vendere a 4,9975 o anche questi possono essere messi dal market maker o da un trader questi invece mi sembrano messi da un pyrda qualunque da un trader o pyrda qualunque ok e questo anche probabilmente da un pyrda qualunque a 1000 euro questo sarà uno di voi confessate è uno di voi che ha messo l'ordine 1000 euro in acquista a 4,91 ok ora qual è la caratteristica la ridico ancora 26 vuol dire che scadono nel 2026 quindi il loro prezzo sarà molto volatile più si avvicina al 2026 diventerà molto meno volatile perché va a scadenza ecco stiamo leggendo il kid di quello 2026 vedo che io sono stato molto ottimista dicendo un range stretto stretto mica tanto l'indice misura la performance di obbligazione societaria di tipo investment grade a tasso fisso quindi utile a tasso fisso con scadenza compresa tra 1,1 e 15-12 2026 chiaramente questo etf non ha più senso di esistere al 15-12 2026 perché non esisterà più nessuna obbligazione che sta sotto nell'indice anzi probabilmente quando si avvicinerà a dicembre 2026 questo etf smetterà di essere quotato e vi verrà rimborsato ok esclude emittenti sulla base dei criteri ISG del fornitore dell'indice mi piace poco vediamo qui una calosola di investimento del fondo prevede che la data 31-12 2026 le azioni detenute dall'azionista e i fondi gli etf e i fondi chiamano le quote azioni però non c'entra niente con quelle che voi chiamate normalmente azioni le azioni detenute dagli azionisti saranno rimborsate senza ulteriore avviso ok quindi se non fate niente 1-1 2027 viene rimborsato tutto il fondo che sono quindi tutte le obbligazioni che erano dentro e che sono scadute a 100 perché vengono rimborsate a 100 nel periodo tra l'1-1 2026 e il 15-12 2026 miracolo incredibile danno informazioni ulteriori di solito sono molto criptici questi etf l'indice sarà ribilanciato mensilmente fino all'anno prima della scadenza quindi fare i bilanciamenti mensili potrebbe essere quasi troppo per i miei gusti però vabbè li fa ricordo che questi ribilanciamenti hanno un costo non è che ve li farà gratis giustamente non sarà più fatto a partire da tale momento nell'anno prima abbastanza inutile perché saranno tutti molto allineati vicino al 100 a meno che non ci siano i titoli declassati vediamo un po' di costi commissione di gestione 12 euro costi di transazione 7 euro costi correnti trattenuti ogni anno 0,12 del valore del vostro investimento e costi di transazione 0,07 del valore del vostro investimento all'anno quindi abbiamo un cosiddetto potrebbe essere cosiddetto ter di 0,19 purtroppo al momento come vedete questo è just etf non c'è ancora su just etf e non so che farci ragazzi non c'è su just etf bisogna protestare per farlo aggiornare vediamo quell'altro eccolo qui andiamo a vedere il kid quindi nella scheda nella scheda trovate il codice ISIN poi magari nella descrizione del video vi lascio due entries su borsa italiana andiamo a vedere il kid questo qua sarà esattamente uguale secondo me hanno fatto copia e colla del kid soltanto che hanno fatto replace 2026 con 2028 ecco proprio copia e colla replace vediamo se costa di più uguale costa leggermente un 1 per un 1 per 10.000 0,18 ok poi se avete altri dubbi potete io vorrei provare a telefonare in diretta a blackrock e vedere cosa mi dicono a questo numero qui ecco qui questo è il video so che non fornisce moltissime informazioni beh fornisce tutte le informazioni che avete bisogno però non ne fornisce moltissime perché è stato quotato da poco sono costretto a fare il video alla decima email che ho ricevuto dicendo hai visto che è ok quindi facciamo il video così siete soddisfatti vi ricordo però un aspetto negativo e due aspetti negativi a dire la verità il primo è che questa cosa qui investe in bond controllo un attimo investe in bond corporate controllo per sicurezza anzi controlliamo assieme combinazione di incremento capitale residuo obbligazioni societarie ecco societarie ok e investment grade ora le obbligazioni societarie in Italia sono tassate al 26% quindi vuol dire che tutto l'etf vi sarà tassato al 26% invece che al 12,5% e questo forse lo renderà meno appetibile di sbattersi un po' a comprare bond singoli perché ricordo c'è il problema che se avete pochi soldi tanto vale comprare un bond singolo e finita lì se avete tanti soldi a quel punto siccome avete tanti soldi forse vale la pena sbattervi voi stessi a risparmiare sulle tasse e andare a comprare vari bond governativi quindi aspettiamo con ansia che BlackRock ci sforni anche degli etf analoghi su bond governativi perché per il momento la tassazione più del doppio ci azzoppa non poco i rendimenti c'è un altro problema che è che un etf non è detto che tracci proprio bene l'indice o meglio magari l'etf lo traccia ma il suo prezzo no quindi il prezzo dell'etf si discosta dall'indice c'è il video bomba che dovevo far uscire ma che per colpa di questo video forse sarà ritardato vediamo è proprio un video che guarda quanto si discosta e gli etf possono anche discostarsi parecchio dall'indice a volte addirittura in positivo per motivi a me misteriosi quindi si tratta pur sempre di un etf quindi prendete un aggregato voi non sapete cosa succede dentro non c'è almeno io non ho mai trovato un elenco ben determinato dicendo ho queste cose qui esattamente ecco come puoi tracciarle però di solito se per evitare di comprare 20-30 titoli conviene anche se devo dire la verità se voi avete bisogno di 20-30 titoli perché vuol dire che avete quanto 2-300 mila euro se avete 2-300 mila euro mi chiedo perché li stiate mettendo in obbligazioni singole che vuol dire che avete che è un investimento a scadenza 3-4 anni forse per una casa potrebbe aver senso se invece li state mettendo in obbligazioni perché intendete fare un investimento a 10-20 anni e scegliete le obbligazioni perché avete paura delle azioni in quel caso vale la pena direttamente un etf obbligazionario tradizionale perché su 10-20 anni l'effetto dell'oscillazione dei tassi si sentirà molto meno ecco qui questo è il video avete insistito vi ho accontentati ti sarebbe piaciuto avere degli etf in obbligazioni governative a scadenza e invece no l'etf in obbligazioni societarie a scadenza ciao ciao 26 2 6